Ed eccoci alla pagina sportiva, alle notti di Champions League è cominciata la prima tranche delle gare degli ottavi di finale andata. Ieri due partite importanti, la sorpresa più clamorosa è arrivata da Madrid dove l'atletico di Diego Pablo Simeone ha vinto contro il Liverpool di Klopp con il punteggio di 1-0. Invece a Dortmund, il Borussia Dortmund ha battuto il Paris Saint-Germain. Oggi in campo la prima delle tre squadre italiane, le altre due, Juventus e Napoli, saranno in campo la prossima settimana. I bergamaschi di Gasparidi saranno impegnati alla Teti Azzurri d'Italia stasera alle 21, affrontando gli spagnoli del Valencia decimati da infortuni. Mentre a Londra il Tottenham di Jose Mourinho affronterà la squadra tedesca dell'Ipsia. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento oggi alle 13.30 con Basket Time, la nostra rubrica dedicata al mondo della palla a spicchi con tutte le novità dalla serie C Silver, serie A2 e serie B nazionale. Prossima edizione di Speciale News Web 24 come sempre stasera alle 19. Grazie per l'ascolto e a tutti una buona mattinata.